Grazie Presidente. Io ringrazio i Presidenti della Commissione 9 e 8, la Rotta, la Paita e tutti i colleghi per l'atteggiamento sicuramente costruttivo avuto dei confronti dell'unica opposizione che è quella di Fratelli d'Italia in Commissione. Però devo andare in controtendenza e evidenziare, quanto detto dal collega che mi ha preceduto, che dal Conte 1 passando per il Conte 2 fino ad oggi abbiamo visto vari decreti occuparsi dei trasporti e delle infrastrutture. E purtroppo al Sottosegretario Cancellieri, ma soprattutto al Ministro Giovannini che non è presente, devo ricordare che purtroppo i loro predecessori, uno su tutti il Ministro Toninelli, verranno ricordati per essere passati nella Galleria del Prennero che ancora non c'era, di voler bloccare un'altra Galleria, quella della Torino-Lione, verranno anche ricordati per i bonus monopattini, per aver distrutto l'aviazione civile italiana, a cui questo Governo, Sottosegretario Cancellieri, sta dando il colpo di grazia. Sempre i predecessori del Ministro Giovannini saranno ricordati per la pista ciclabile sullo stretto di Messina e per aver proposto di far diventare congiunti gli studenti per l'incapacità di risolvere il problema del sovraffollamento nelle metropolitane, sui bus durante la pandemia. Sempre i predecessori del Ministro Giovannini si sono occupati più di us soli che della messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti. Presidente, questo Governo dei migliori, che ha la più grande e larga maggioranza della storia repubblicana, non cambia rotta dal passato, anzi persevera e rischia di ricoprire di soldi la famiglia Benetton con l'acquisto di autostrade, scaricando sui cittadini la messa in sicurezza di centinaia di infrastrutture fino ad oggi trascurate, che hanno prodotto profitti enormi grazie agli aumenti che probabilmente aumenterete del 36%. E poi, Presidente, all'interno del decreto ci sono cose che non si vedevano dal 1800. E mi riferisco alla follia della deroga all'articolo 2112 per i lavoratori della compagnia Ita, in aperto contrasto con le norme e con tante sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea. E sì, Presidente, perché in Commissione gli emendamenti 7.2 e 7.3 che avrebbero scongiurato questa follia sono stati bocciati dalla maggioranza con un parere contrario del Governo che oggi è qui a chiedere la fiducia. La verità è che con questa fiducia si espone Ita a una valanga di ricorsi ed è certo che chi ha scritto la norma non si rende conto della gravità o, peggio ancora, ha la volontà di far fallire sul nascere il progetto della nuova compagnia italiana. Presidente, l'Italia è la nazione che ha dato più spazio alle low cost e soprattutto lo ha fatto durante il Governo Monti, a differenza della Germania e della Francia, che li hanno tenuti lontano dagli aeroporti principali. Con questa situazione, che Fratelli Italia denuncia da tempo, Ita parte con risorse per reggere due inverni in perdita, dopodiché se ne occuperà probabilmente il vostro successore. Vede, Presidente, Sottosegretario, noi di Fratelli Italia sosteniamo le battaglie in cui crediamo e molte sono state condivise nel programma elettorale del centrodestra, ma purtroppo riscontriamo che non riescono a trovare spazio nelle azioni concrete del Governo. Noi vogliamo parlare di cose concrete, vorremmo discuterle in Parlamento e invece siamo spettatori dell'applicazione del peggior manuale Cencelli. In Commissione Trasporti abbiamo visto arrivare di tutto e di più dall'innalzamento dei limiti di velocità su alcuni tratti autostratali, al divieto di fumare mentre si è al volante anche da solo in macchina, a chi proponeva sanzioni più pesanti per chi getta oggetti degli automezzi. Tutti meritevoli di essere discussi ci mancherebbe, ma non in un decreto d'urgenza al quale viene posta la fiducia, perché questo decreto doveva volare più in alto, perché i soldi del PNRR sono soldi a debito, stanno sulle spalle delle prossime generazioni, non sono regalati e bisogna spenderli per cose utili alla nazione e al popolo italiano. Questo decreto, Presidente, doveva tener conto che le emissioni di gas serre in Italia. Nel 2021 hanno ripreso a crescere, si stima del 6%. Nel 2020 gli eventi estremi connessi al clima nel nostro Paese erano stati quasi 1.300, mentre nel 2011 erano meno di 400. E siccome abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini di devastazione e dolore che la furia della natura ha prodotto in Sicilia e in Calabria, e noi di Fratelli d'Italia siamo vicini alle popolazioni coinvolte, ci stringiamo attorno alle famiglie e alle comunità che hanno subito questa devastazione. Ma ecco perché questo era un decreto che doveva tenere conto che gran parte dei comuni sono a rischio idrogeologico e che nel 2020 asfalto e cemento hanno ricoperto 56,7 chilometri quadrati di territorio, in media oltre 15 ettari al giorno, 2 metri quadrati al secondo. E su questi presupposti che doveva essere affrontato questo decreto e le risposte dovevano essere date a queste emergenze. Noi abbiamo fatto, come sempre, il nostro mestiere, l'abbiamo fatto ancora una volta, in un contesto francamente poco incoraggiante, dove possiamo solo spiegare che parta e termini rapidamente il monitoraggio delle infrastrutture. Perché dopo la tragedia del Ponte Morandi troppo poco è stato monitorato e troppo pochi sono i cantieri aperti. Quindi, Presidente, seppur sia apprezzabile il tentativo di potenziamento degli interventi per la digitalizzazione nelle ferrovie, il ritrovato ruolo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali, la semplificazione delle procedure amministrative però è veramente ancora un miraggio. Ma è normale, perché abbiamo visto sempre in Commissione, battersi sulla possibilità di fare servizi taxi non solo con le autovetture, ma anche con motocicli e velocipedi. Forse pensano di essere in Thailandia. Non siamo a Bangkok, siamo in Italia, Roma, Bari, Milano, Torino. Non sono ancora a Bangkok. E quindi, Presidente, ripeto, questo decreto, invece di volare alto, si è trasformato nell'ennesimo poltronificio, si è data forma all'ANAS2, come in un processo di mitosi, quel processo, per capirci, nel quale una cellula si divide in due cellule figlie che risultano geneticamente e morpologicamente identiche tra loro alla cellula madre. Questo è uno scandalo, colleghi, che ha trovato misteriosamente dall'altro una copertura di oltre 500 milioni di euro nel bilancio corrente. Io non ho capito questo porcellino pieno di soldi dove lo avete trovato, però aumentano le bollette per gli italiani. E concludo, non c'è molto altro da aggiungere, Presidente, se non fosse che all'articolo 7, come ho già ricordato all'inizio del mio intervento, si è celebrata la fine dell'abiazione italiana, che solo grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia, che devo dire la Commissione ha accolto con favore, il Ministro dell'Economia verrà trascinato in aula a raccontare agli italiani cosa succede in Ita almeno una volta all'anno, racconterà cosa succede alla flotta di Ita, ai suoi lavoratori, ai loro contratti ormai privi di tutela occupazionale e contrarie alle norme in vigore del Codice Civile. Attenzione che questa è una deriva però pericolosa. Concludo veramente, Presidente. Siamo a 70 fiducia da inizio della legislatura. In soli nove mesi il Governo Draghi ne ha poste 21. Sono 2,5 voti di fiducia al mese. Solo il Governo Monti ha saputo fare peggio. Ma adesso, e concludo, considerato che dal 18 ottobre e fino a maggio prossimo abbiamo sconfitto ogni forma di fascismo qui in aula e proprio ieri è calato il sipario sulla legge Zan, adesso come unica forza di opposizione parlamentare vorremmo avere la speranza di poter lavorare in Parlamento più sereni e per rilanciare la nazione. Ma su questo decreto siamo convintamente negativi perché non ne condividiamo né il metodo né il merito politico per cui i voti di Fratelli d'Italia su questa fiducia non ci saranno. E annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia. Grazie onorevole Silvestroni.